Ultima ora. Arrestato in Germania Filippo Turetta. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Oggi, Filippo Turetta è stato fermato in Germania. Come confermato dall'avvocato del giovane, Emanuele Compagno. La notizia è giunta questa mattina, quando l'avvocato ha informato i genitori del ragazzo di 22 anni. Su di lui pendeva un mandato internazionale, inizialmente emesso per tentato omicidio, ma ora elevato a omicidio, forse anche premeditato, di Giulia Cecchettin. La sorella della vittima ha sottolineato che Turetta, uno studente di ingegneria, noto come un, bravo ragazzo, ha compiuto l'atroce gesto accoltellando la sua ex. Successivamente, ha abbandonato il corpo in un dirupo, scelto attentamente dopo aver effettuato ricerche online. Il Corriere riporta che Turetta aveva consultato kit di sopravvivenza e mappe dei sentieri di montagna in Tirolo. Il suo arresto è avvenuto nelle vicinanze di Lipsia, grazie a un mandato di arresto internazionale. Nonostante gli appelli della procura e della famiglia per la sua consegna, questi erano rimasti inascoltati nei giorni scorsi. La giustizia ora dovrà fare il suo corso per portare Turetta di fronte alle conseguenze del suo terribile atto. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.